Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Shiva in questo nuovo video di Gears of War 3 Bene, continuiamo pure la nostra campagna Perché qui parlano in continuazione, non riesco a mai parlare Eh, pazienza Vediamo un po' cosa facciamo adesso Ehi, guarda, è ancora un eroe Già, quei barboni non hanno neanche fuso la sua statua Questo sì che è rispetto Oh, train! Merda, sei proprio tu! Wow! Con, che ci fai qui? Amico, non sei cambiato di una virgola Eh, già Ehi, finalmente sei tornato a casa Non possono tenermi lontano per sempre, baby Volevo solo vedere se è tutto come l'ho lasciato Ehi, ti fai una birra con noi? È roba buona Vi ringrazio, ma sono ancora in servizio Ci servono provviste Ne avete per caso? Meglio chiedere al boss Ti possiamo portare da lei Ah Ho sentito che non è proprio una mia fan Ah, ma ti ascolterà Tu sei Coltrain Ah, beh, allora Eh, vai Ehi, Coltrain non si ferma mai! Ciuff, ciuff! Flettanti! Sono dentro! Gli Stalks hanno entrato nello stadio! Ok Mettetevi al riparo! Cavoli Porca miseria Ah, un bel casino Ah, livello superiore e livello inferiore Forse preferisco quello inferiore Finalmente in due! Oh, santa miseria Di sopra! No, siamo in due al cazzo Guardate i baccelli! Sì, sì, dispare i baccelli Ti preoccupare Ah, è finito il baccelli Stronzo, guarda che casino hai combinato! Baccelli, baccelli, baccelli! È Benjamin! Oh, cavoli Sono con te, fratello Vediamo un po' Ok Morici malo Oh, bravo! Anche te, morici malo Bravo Vediamo un pochino Io andrei un po' più avanti Non troppo perché sennò qui mi fanno un culo Ah, via Eh, no Questo è il miei Allora, stavolta il baccello Sul baccello Poi vediamo un po' il baccello Siamo Attenti sputano! Attenti sputano! Ok Dove sono? Da là? Eh, no Stavolta però Andiamo un po' Eh, andiamo un po' Vai! L'ho preso Chi lo sa Io non ho più Bombe Bravo Tira la granata Perché sennò qui siamo nella merda Non posso più prenderli Posso prendere solo quelle Quelle di base Ok Bene Vediamo se la signora è di buon umore Eh, spediamo Io una bomba le ho tirato un po' di male Le avrò affatto Non ne vedo di bombe Eh, adesso che comincio a usarle Non ne trovo neanche una Mi sembra giusto Mi sembra giusto Eh, me ne servono solo quattro Eh, no Sono solo Armi normali Bombe non me ne vedo In questo momento Provo a rifare un giro Perché non si sa mai Eh, le munizioni qua Faccio poco Eh, vabbè 134 Beh, non male Ho una rivista L'ho presa Perfetto Eh, poi la leggerò Purtroppo ne ho perso una E mi dispiace tanto Va bene Andiamo avanti Dai, dai Su Fammi passare Fammi passare Dobbiamo andare qua Là non c'è niente Ah, io sono passato di qua Quando potevo passare di là Che bello Figuraccia Va bene Signorina mi scusi Eccola qua Andiamo avanti Qui è chiuso Qua non c'è niente Una bomba La che direi Perché questa qua È l'unica cosa Che posso fare Sessato Tirargli le bombe Che gli fa molto Molto male Ok Vai C'è la signorina Cold train Vediamo chi è la signorina Già Hai ragione Sugli odori Che non se ne vanno mai via Vecchi ricordi Vecchi ricordi Ah, quello è il suo Eh, di Eh, di Eh, di Eh, di Beh, di Signore e signori, il figlio precedente del nove, il numero 83, Q3! Non era proprio come... Eccola! Prendi la... Fa tutto lui, eh! Non faccio niente! Oh cacchio! Adesso faccio! Via, via, via! Fammi passare! Non faccio niente io, fa tutto lui! Ecco qua! Ma questo è scemo! Guarda che efficiente! Eh, ce l'ha fatta, eh, per carità! Però, insomma... Non esplodevano! Non esplodevano... Eh, vabbè, la regina dei barboni... Ah, beh, siamo a posto! Punto di sorta, eh! Sovereign a tutte le unità KR in missione! Gli splendenti ci hanno attaccato! La nave è stata abbordata e abbiamo bisogno di supporto! Ripeto, siamo sotto attacco e richiediamo assistenza immediata! Oh, cavolo! Questo cambia i piani per la cena? Eh, sì! Call a KR-70! Dobbiamo raggiungere la nave! Qui a KR-70! Negativo call! Gli splendenti stanno facendo un casino sulla Sovereign! Attendete! Perfetto! Ricevuto! Ok... Vediamo se il boss riesce a farci tornare sulla nave in qualche altro modo! Eh... Spero, ma non credo! Andiamo! Vai! È stato bello finché è durato! Già! Ah, merda! No, è colpa vostra! Ecco! Quelle bestiacce ci avevano lasciato in pace finché non vi siete presenti! Signora, la nostra nave è nei guai! Dobbiamo rientrare il più presto! Avete un mezzo di trasporto! Come no! Ecco le chiavi del mio yacht! Eh... Sentite, COG! Siete soli! Andatevene finché siete in tempo! Presto! Muoviamoci! Andiamo di sotto e apriamo il cancello posteriore! Dobbiamo evacuare i civili! Merda! Dobbiamo arrivare al ponte! La Sovereign ci passerà sotto! D'accordo, d'accordo! Potremo prendere il controllo di quelle torrette! O calarci sulla nave quando sarà sotto di noi! La teleferica che porta al ponte funziona! Sì, ma vi do un consiglio! Dimenticatevi del ponte! Ci sono degli arenati da cui è meglio tenersi alla labbra! Beh, ci toccherà rischiare! Dobbiamo tornare sulla nave! Fate come volete! Per me non fa differenza! Eh, che simpatica! Mamma mia! Sembra che sappiano come uscire! Io pure! Da questa parte! Ok! Bene! Oh! Divisi! Vediamo un po'! Eh, stavolta siamo in due! Eeeh... Oh cazzo! Così devo fare io? Sai, avremmo fatto meglio a uscire dal retro! Dici! Allora! Ok! Andata! Vai! Vai! Andata anche lui! Adesso ti prendo anche te! Andata! Ah! Stiamo salendo! Ah! Bello! Oh! Brava questa! La tipa top è brava! Chi è? Chi è? Chi è? Oh! Ciavoli! Fammi prenderti! Fammi prenderti! Non ti prendo! Pazienza! Ok! Ah! Questo poi! Carburante! Ce la faccio eh! Ok! Meno male! Era un bel cazzo di casino! Ce l'ho fatta? No! Porta! Siamo quasi sul tetto! Sì! Siamo quasi sul tetto! Mamma mia che casino! Ok! Ci siamo! Punto di sosta! Atto 1 capitolo 6! Appeso a un filo! Beh! In quel senso! Oh! Merda! Eh già! Qualcuno soffre di vertigini? Beh! Ore 16! Non più! Amo l'altitudine! Cazzo se l'amo! È fantastico! La linea arriva fino al ponte! E questa è la nostra fermata! Avanti! C'è un sacco di... C'è un sacco di... Allora! Perché ho l'impressione che devo fare così? Oh! Morca miseria! Ok! Restare appesi a un cavo mentre ti sparano a tozzo? Diventerà uno sport popolarissimo! Sì sì! Il campionato di fammi il culo! Eh! Perfetto! Oh cavolo! Oh cavolo! Non so dove cavolo andare! Fantastico! Ok! Forse è un cannone e non è una pistola! Però io non so dove andare perché qui... Porca miseria! Dove cacchio devo andare? To! 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 Oh! Sembra potentina la pistola qua! Allora! Vai! Ok! Andata! Dove cavolo devo andare? Eh! Porca miseria! No 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 no! Oh cavolo! Oh cavolo! Fantastico! Oh meno male che è venuto lui! Oh cavolo! Fritto! A merenda! Andiamo! Dai! 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 Oh cavolo! Mamma mia che potenza inalata che ha quello la! Ah! Ha rotto le palle questo però eh! Oh! Punto di sosta! Grande così! Questo è l'ultimo! Almeno per ore! Ok! Ce l'abbiamo fatto dai! Ma abbiamo dato... Ah! Sta pistola non è male! Devo ammetterlo! Sono più preoccupato della stabilità di questo ponte che di qualche arrenato dal grilletto facile! Dici? Già! L'aspetto non è incoraggiante! Eh no! Ehi! Diamoci una mossa! Se perdiamo la nave perdiamo tutto ciò che abbiamo! Eh! Non è che abbiamo tanto adesso eh! Andiamo pure avanti! Sì! Ok! Perfetto! Ottimo! Sì! Ma prima dobbiamo superare quella! Ci penserà il mio fascino straordinario! Ah! Siamo a posto! Forse dovrei prestarti un po' del mio! Ah! Allora siamo proprio a cavallo! Ehi! Ma sono io l'unico che si sente sottotiro qui! Eh! Movimenti! In cima alla barricata! State allerta! Oh santa passere! Adesso che facciamo? Ehi! C'è nessuno! Toc toc! Vogliamo solo passare! Abbiamo solo bisogno di una mano per tornare alla nostra merda! Alla nostra merda! Alla nostra merda! No no! Io non ci torno alla nostra merda! Tanti saluti alla diplomazia! Che ti aspetti da quelle merde di arenati! Avanti! Diamoci da fare! Ok! Ehi! Non sono arenati! Sono locuste! Locuste! Grandioso! Guarda chi si rivede! Eh già! Abbiamo allagato i loro tunnel! Oh porca! E quello come lo butto giù? Adesso! Ehi! Aprono il fuoco da quella cabina! Già! Anche in cima alla barricata! Andiamo! Vai! E vai! Oh! Questa pistola mi piace! Ma porca! Di quella! Si accerchiano a destra! Vacca! Mi ha tirato qualcosa e non me ne sono accorto! Maledizione! Sono insalvabile così perché mi è esploso tutto! Porca di quella flaca! Ehi! Aprono il fuoco da quella cabina! Allora! Andiamo un po'... Già! Anche in cima alla barricata! Allora! Stavolta no eh! Cecchini! Sì! Il carisma! Funziona sempre! Ok! Eh! Come ti aiuto adesso! Però adesso non ti posso aiutare! Cecchino! No! Bastante! Ma porca di quella porca! Ok! Vai! Vai! Oh! Un cecchino è andato! Vogliamo neanche un altro! Se ci dovesse riuscire sarebbe una cosa gradita! Qua! E qua! Un altro! Dobbiamo farcela! Eh! Oh! No! Non lo voglio! La tua arma bruttissima! Dove vai? Qua devi andare! Oh! Così dovrei farcela! Vediamo un po'! Vai! Vai! E vai! Ancora! Porca! La placca! Oh! Oh cacchio! Vediamo un po'! Tac! 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 Eh dai! Muorici però eh! Ok! E adesso questo! A sinistra! Vediamo un po'! Oh! Chi è? No! Mi difendo un attimo e poi li torno all'attacco! Intanto carico! Eccoci qua! Vai! E vai! Oh! Con cavoli! Vabbè! Oh! Che cosa... Che cazzo è questo? Lancer retro! Lancer retro! Non lo conosco il lancer retro! Comunque non me lo fa prendere! Adesso vado a rifornirmi un attimo eh! Perché mi sa che ho bisogno di qualche munizione! Otto! Non saranno troppe! La pistola! Niente! Questa cos'è? Granata incendiaria! Allora questo mi interessa! Allora questo mi interessa! Ok! Fino a... Lo leggerò! Granata incendiaria! A posto di cosa me lo dai? Delle granate normali! Che tanto le granate non le avevo! Degli stronzi davvero creativi no? Eh si! Usano vecchi lancer per costruire le torrette! Complimenti! Vabbè non è male eh! Tutti cercano di recuperare qualcosa! Persino i vermi! Eh! Infatti! Eh di altro! Queste armi possono fermare un tiro! Sempre che il rinculo non ti sloghi una spalla! E' quello il problema di base! Il rinculo! Punto di sosta! Allora! Ok! No 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 no! Ti sei mancato! Sei sempre più brutto! Porca la miseriaccia! Miserix! Eh! Lo so ma! Aiutami grazie! Togliti! Fai mettere al puto di... Allora! Vediamo un po'! Devo farcela! Dai togiti! Andavanti! Porca miseria! Dai 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 dai! Porca misericcia! Oh mamma mia! Ci ha preso proprio la sprovvista! Perché eravamo tutti la! Miseriaccia! Mannaia! Mannaia! Mannaia a posto di cosa me la dai! RT per colpire con la mannaia! E questo è proprio corpo 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 eh! Proprio... Alla grande! Andiamo un po'! Questo no! Questo no! Questo no! Questo no! C'è un sacco di cose che non posso usare! Fantastico! Mamma mia! Questa mannaia è proprio corpo corpo corpo! Corpo corpo! Eh... Dove ce l'avrei la mannaia adesso? Ah la mette giù! Ok questa qui è proprio da... Momenti! Mi piace come hanno sistemato questo posto! Look informale e squallido! Eh... Non male! Stiamo parlando di Vermi Bird! Lo squallore è normale per loro? No! Quando erano sottoterra erano organizzati! Ora invece sembrano diventati quasi dei selvaggi! Eh... Selvaggi eh! E questo rende più semplice sconfiggerli! Sì sì! Ok! Punto di sosta! Direi che ci possiamo fermare qua! Per questo video è tutto! Noi ci vediamo al prossimo video di Gears of War 3! Eh... Speriamo bene! Perché qui la vedo piuttosto arduo! Però dai! Stiamo procedendo abbastanza bene! Siamo ancora alle fasi iniziali! Dopo tutto è normale! Bene ragazzi! Io vi do un saluto alla cima! E ci vediamo al prossimo video! Ciao ciao!